ciao ragazzi ciao ragazze benvenuti a un nuovo video sarebbe video mangio per 24 ore cibo salutare ciao ciao ma non salutare così frutta e verdura allora cominciamo con la colazione ho pensato un bel frullato di banana un po andata la banana mela spinaci acqua e una cucina di zucchero bisognava mettere il miele ma io non ce l'ho e metto lo zucchero adesso metto tutti gli ingredienti dentro nel frullatore e vediamo cosa viene fuori banana mila spinaci adesso ci metto l'acqua e frullo eccolo qua il mio beverozzo e l'ho messo dentro in una tazzina e adesso me lo gusto seduta tranquilla ci vediamo per lo spuntino di metà mattina qui allo spuntino di metà mattina la banana la banana la banana adesso me la mangio eccola quella banana buona buona bella matura un pezzettino lo tengo per portargli alla mario buona ci vediamo a pranzo ragazzi per mezzogiorno per pranzo mi mangio il cavolfiore però lo devo prima frullare ho frullato il cavolfiore qui c'è praticamente una padella con dell'olio e il cavolfiore devo metterlo a crudo dentro nella padella e devo farlo andare ecco qui ho aggiunto del curry sale e ancora un goccio di olio adesso faccio andare dieci minuti un quarto d'ora eccolo qua mangerò solo questo perché riempie non sembra ma riempie eccoci qua guardate la bontà che sto per mangiare e niente sono il cavolfiore cavolfiore bellissimo buon appetito a me eccoci qua la merenda merenda si fa la merenda con una carota tagliata a rondelle e uno yogurt alla banana da dove comincio dallo yogurt buon appetito buonissimo e poi la carota buona 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 intanto allora sono i cetrioli quelli che piacciono tantissimo alla Sara i cetrioli e i pomodori i pomodori pomodoro tutto con della buona acqua buono siccome non si ha voglia di cucinare perché va troppo caldo si mangiano i piatti freddi benissimo il video è finito e ci vediamo al prossimo video ciao ciao